Le ragioni per le quali pensiamo che possa essere di interesse per un consulente finanziario partecipare ai prossimi incontri con Blu-Rating nei quali interveremo anche noi, ha a che fare con il momento storico che viviamo, quindi MIFID 2 sta portando a riconsiderare il valore, la relazione tra cliente e consulente finanziario. Noi intravediamo in questo momento storico un'autentica rivoluzione, quindi l'Advise Revolution nell'ambito appunto della consulenza finanziaria, Advise Revolution che significa porre maggiore attenzione proprio sul valore della relazione con il cliente. Questo può consentire al consulente finanziario di uscire dalla trappola della performance concentrandosi sugli obiettivi dei clienti. L'objective based investing da molti anni negli Stati Uniti è un argomento di grande interesse, ne sentiamo a parlare meno qui da noi e la nostra volontà è quella di trasferire questi spunti ai nostri colleghi italiani affinché, ripeto, si esca dalla trappola della performance e si consideri nella pianificazione finanziaria e nel raggiungimento degli obiettivi di questa pianificazione finanziaria il luogo di maggior valore della consulenza.